Nel 1918, dopo aver perso la guerra, la Germania aveva fondato un nuovo governo. Eliminato il regime dell'imperatore di Guglielmo II, libere elezioni nel 1919 avevano dato al Parlamento una maggioranza socialdemocratica per governare quella che è la nuova Repubblica di Weimar. Tutto questo accadeva mentre si preparavano le trattative di pace e il nuovo governo aveva promesso ai tedeschi una pace onorevole. Noi sappiamo però che alla conferenza di Versailles il risultato fu ben diverso e il malcontento cominciò a dilagare tra la popolazione. Il problema più grave era questo. La Francia occupava le regioni della Rur, che erano le regioni ricche di miniere, di ferro e di carbone. Questo provocò una grave carenza di queste materie prime e di conseguenza la chiusura di moltissime fabbriche. Di tutto questo ovviamente il popolo tedesco accusava la Francia. Questo è un manifesto che rappresenta la Francia, la si riconosce dal berretto frigio come una sorta di strega, che con la mano cerca di impossessarsi delle fabbriche tedesche. Infatti la scritta che vedi sotto significa giù le mani dalla Rur. Oppure in questo altro disegno la Francia è rappresentata come una creatura mostruosa, che sullo sfondo si vedono miniere, ciminiere, fabbriche, avanza verso la Germania lanciando come fossero dei pupazzi i soldati tedeschi. La chiusura delle fabbriche provocò ovviamente molta disoccupazione e molta miseria, al punto che la moneta tedesca, il Marco, a un certo punto perse completamente il suo valore. Cosa significa? Significa che il potere d'acquisto di questa moneta diventò quasi nullo. Facciamo un esempio pratico. Nel 1920, per comprare un chilo di pane, un tedesco spendeva poco più di due marchi. Tre anni dopo aveva bisogno di 200 miliardi di marchi. Questa è la pagina di un quotidiano, siamo nel 1923 e il titolo fa vedere come per acquistare un dollaro statunitense fosse necessario un milione di marchi. Invece in questa tabella vedi alcuni dei prezzi, dei generi di prima necessità, con il loro equivalente. Un biglietto del tram 50 miliardi, un litro di latte 360 miliardi. Questo significa che la moneta non valeva veramente più nulla. Risultato, alla miseria che già c'era, dei reduci di guerra che erano tornati, spesso in pessime condizioni, mutilati e non avevano più trovato nulla, neanche la possibilità di un lavoro. Alla disoccupazione degli operai, visto che abbiamo detto che le fabbriche chiudevano una dopo l'altra, si aggiunge anche la miseria del ceto medio, che non riesce più a far fronte alla vita quotidiana. Tutto questo provoca ovviamente un periodo di proteste e di scioperi che venne chiamato Biennio Rosso, negli anni che vanno appunto tra il 1920 e il 1921. Nello stesso periodo nacque un movimento di destra, chiamato Movimento delle Camice Brune, che si ispiravano alle squadracce di Mussolini. Il movimento fu organizzato da Adolf Hitler, il quale adottò come simbolo la svastica e successivamente fondò il Partito Nazional Socialista, conosciuto come Partito Nazista. Non solo. L'aggressività di questo movimento sfociò nel 1923 in un tentativo di colpo di Stato, che però fallì. Hitler venne arrestato e per qualche tempo venne messo in prigione. Proprio durante la sua prigionia, ebbe modo di strutturare, di mettere ordine nelle sue idee e di raccoglierle in uno scritto, intitolato Mein Kampf, la mia battaglia. Quali erano le idee di Hitler? Il concetto principale attorno a cui ruotava tutto il suo pensiero era il concetto di razza. Esiste, secondo lui, una razza pura, che è quella ariana, che è la razza superiore e che, secondo Hitler, comprende più o meno i popoli europei. Tra i popoli europei di razza ariana, però, il popolo tedesco è il più puro di tutti e quindi è destinato a dominare il mondo. Allora, ovviamente noi oggi sappiamo che le teorie sulle razze non hanno nessun fondamento, ma dal 1800, in realtà, c'erano degli studiosi, degli scienziati, che hanno tentato di dimostrare come, invece, attraverso misurazioni, osservazioni, catalogazioni, si potevano classificare le persone in base a delle razze e, soprattutto, stabilire quali di queste razze fossero superiori e quali inferiori. Nella Germania dell'epoca tutto questo serviva a, come dire, mantenere pura la razza ariana. Questo periodo non è un pensiero soltanto della nazista, insomma, di Hitler, perché le stesse idee si diffonderanno, anche se con una violenza decisamente inferiore, anche in Italia. La cosa drammatica è che saranno diffuse nella quotidianità alcuni esempi. Questo è un tabellone per costruire un gioco dell'oca. Si vedono i dadi, le pedine. Il gioco dell'oca non è altro che un percorso. vince chi arriva per primo al centro del tabellone, cioè, in questo caso, vince chi riesce a fondare l'ordine nuovo, cioè quella dominazione del mondo di cui si parlava prima. Se osservi con attenzione le caselle, vedi che ci sono tutti i simboli del periodo. Oppure questo è una sagoma in legno che veniva utilizzata nei Luna Park. La sagoma rappresenta il viso di un ebreo e, come puoi notare, ci sono i punti per colpirlo, perché veniva usato per i baracconi del tiro al bersaglio. Quest'altro, invece, è un manifesto che rappresenta le tipologie per riuscire a distinguere le razze. E questo, ad esempio, era un manifesto che si utilizzava normalmente anche nelle scuole. A questo progetto di Hitler, però, si oppongono gli ebrei. Questo sempre secondo il pensiero di Hitler. Il popolo ebraico vuole impedire questo progetto. Siccome gli ebrei non avevano una patria, lo Stato di Israele non esisteva ancora, si erano uniti, si erano uniti agli ebrei russi comunisti e agli ebrei capitalisti americani e stavano organizzando un complotto internazionale per distruggere le nazioni. Da qui, l'esigenza di individuare nella popolazione tedesca gli ebrei, separarli dal resto della popolazione e poi eliminarli definitivamente. Il disprezzo di Hitler non si fermava agli ebrei, ma si espandeva anche ad altri, ad esempio agli slavi, che, secondo lui, toglievano spazio alla nazione tedesca. Uno spazio, guarda caso, che era ricco di risorse che servivano alla Germania, come carbone, legname, grano, eccetera. Le idee che giravano intorno a questo principio portante della razza, quindi, erano l'assoluto anticomunismo, l'esaltazione della guerra, bella, affascinante, perché rendeva gli uomini degli eroi, e l'esigenza che a capo della Germania ci dovesse essere un uomo forte e non un Parlamento assolutamente inutile. Hitler proponeva tutto questo perché la Germania ritornasse ad essere una nazione potente e rispettata da tutti. E questa proposta trovò molta più accoglienza del previsto presso un popolo, quello tedesco appunto, che si era sentito umiliato e trattato malissimo dal resto d'Europa. Nelle elezioni del 1924 il partito nazista che si presentava per la prima volta ottenne poco più del 6% dei voti, ma nel 1930 arrivò addirittura a superare il 18%. Una spiegazione di questo clamoroso successo furono le conseguenze della disastrosa crisi economica che aveva colpito gli Stati Uniti nel 1929. L'anno dopo, nel 1930, l'Europa subì il contraccolpo di questa crisi americana. Gli Stati Uniti avevano prestato e continuavano a prestare denaro a tutte le nazioni distrutte dalla Prima Guerra Mondiale, ma dopo la crisi del 1929 chiaramente le borse si chiudono. E quindi le economie europee, già molto fragili, peggiorarono ulteriormente. I tedeschi accusavano il governo socialdemocratico, che già era stato accusato di non aver saputo trattare con gli Stati vincitori, e quindi già gli veniva data la colpa della situazione pessima in cui si era trovata la Germania. Bene, adesso veniva accusato di non aver fatto nulla per superare la crisi. E quindi, quando i tedeschi andarono a votare, si rivolsero speranzosi alle proposte di Adolf Hitler.